Salve! Buon pomeriggio, signora. Come sta oggi? Non male. Invece lei? Tutto bene. C'è sempre il sole da qualche parte. Credo di essermi persa. Magari può aiutarmi. Sa dove posso trovare la famiglia Dodd? Ho trovato la loro cassetta della posta, ma non ho visto case intorno. Credo che vivano qui nei paraggi. È meglio che te ne vai. Mi scusi. Va a casa. Mi scusi. Grazie a tutti.